Il direttore dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento Alessandro Mazzara e il direttore sanitario Gaetano Mancuso hanno autorizzato la fornitura e l'utilizzo del farmaco Resokin indicato nelle linee guida sulla gestione terapeutica e di supporto per i pazienti con infezione da coronavirus. Mazzara e Mancuso spiegano il farmaco è contrattualizzato come clorodrina della Bayer ma risulta carente sul territorio nazionale per cessata commercializzazione da parte della Bayer. Infatti è inserito nell'elenco AIFA farmaci carenti. La stessa AIFA autorizza l'importazione alle strutture sanitarie per analogo prodotto autorizzato all'estero. Si tratta di un farmaco antimalarico. Inoltre la direzione dell'ASP di Agrigento ha approvato il reclutamento straordinario di ulteriore contingente di 40 infermieri tutti assunti a tempo determinato che saranno destinati all'emergenza covid-19. Ad Agrigento si è svolta la prima riunione dell'unità di crisi covid-19 dell'azienda sanitaria provinciale in presenza della direzione, i capi di partimento di chirurgia, di medicina ed urgenza, l'ordine provinciale dei medici ed odontoiatri, preseduto da Giovanni Vento e con il vicepresidente Piero Luparello e i direttori delle unità operative di anestesia e rianimazione. Si è commenuto di condividere quanto proposto dai direttori delle unità di anestesia e rianimazione, peraltro già prospettato dalla direzione dell'azienda sanitaria, i quali ritengono che è necessario, al fine di ottimizzare gli organici a disposizione, di concentrare gli eventuali pazienti covid-19 da trattare negli ospedali di Agrigento e di Sciacca. Nell'ipotesi di ulteriore necessità di posti, gli ospedali di Ribera, Canicattie e Licata potranno far fronte alle necessità mediche e chirurgiche dei distretti orientali e occidentali della provincia.